Avevo tanti dubbi, moltissima paura, tante curiosità e soprattutto un forte senso di inadeguatezza. Però... Perché non mi hai spaventato? No, non ti voglio spaventare. Oddio! Non puoi andare a dormire quando vuoi, cioè... Ah no, ah no! Oddio, non puoi sapere questo. Questo è un dettaglio. No, 5 di pomeriggio c'è il 6, c'è il distrutta. Ma ho avuto la fortuna di parlare con tantissimi amici che mi hanno tranquillizzata totalmente. La notte ti svegli, le poppate, cambiamo i bambini. Ha smesso di giocare per colpa delle poppate. Non puoi dormire in un'altra stanza. No, a me non è piaciuta la gravidanza. Del fatto di sentirla? Sono un alieno. Ehm... Vabbè. Comunque adesso c'è anche questa cosuccia del matrimonio, eh? Niente di impegnativo, però io ho una squadra di amici che sono venuti qui a trovarmi proprio per darmi una mano. Vedrete. Io sono Diletta Leotta e questo è Mamma Dilettante 3. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti